Buongiorno, ci incontriamo nel video di oggi per parlare di un altro punto di agopuntura, il vescica urinaria 25, Da Changshu in lingua cinese. Questo agopunto si localizza 1,5 zun, ovvero due dita della mano del paziente, bilateralmente e inferiormente all'apofisi spinosa della quarta vertebra lombare. Da Changshu, tradotto in latino, diviene inductorium intestini crassi, o in italiano induttore del dorso per l'orbita funzionale intestino crasso. Vescica urinaria 25 è dunque particolarmente significativo di regolazione sistemica per l'orbita funzionale intestino grasso e non del solo organo intestino grasso. Nella fase evolutiva metallo, infatti, troviamo in coppia l'orbita funzionale polmone con l'orbita funzionale intestino grasso, che insieme contengono i seguenti organi e tessuti. La pelle, il polmone, il naso, tutto il percorso dalla narice all'alveolo, l'apparato pilifero, l'intestino grasso e il colon, e per gli odontoiatri, i sesti settimi dell'arcata inferiore e i quarti quinti dell'arcata superiore. I tessuti indicati appartengono genericamente a entrambe le orbite funzionali, tuttavia l'orbita funzionale intestino grasso ha maggiore relazione con la pelle, l'apparato pilifero, il colon e il naso, mentre il polmone ha maggiore relazione col polmone organo, il percorso dalla gola all'alveolo, ovvero la parte più struttiva in profonda del metallo. Dunque, il punto di oggi ha maggiore relazione con l'orbita funzionale, quindi si tratta di pelle, apparato pilifero, l'intestino grasso e la parte iniziale del respiratorio. Ora vediamo le indicazioni cliniche per vescica urinaria 25, o almeno per come risultano dei testi antichi. Questo acopunto regola l'orbita funzionale stomachi e intestinorum, migliora l'assimilazione, sostiene lombi e ginocchi. Dunque si applica questo acopunto per molti disturbi della digestione, il gonfiore addominale, la tensione addominale, il dolore addominale, la colica addominale, l'alvo alterno, la diarrea, la stipsi e la loro alternanza, il dimagrimento pur mangiando e il sangue nelle feci. Questo solo per dire alcuni dei sintomi che questo acopunto sul tema di gestione è in grado di modulare. Vescica urinaria 25 si applica nei protocolli per i disturbi del comportamento alimentare, ovviamente accanto anche ad altri acopunti come sempre avviene nei trattamenti acopunturali, però ricordiamo vescica urinaria 25 per i disturbi del comportamento alimentare. Si applica questo acopunto anche in caso di malassorbimento. Vescica urinaria 25 si applica per il dolore, lombare, lì è un'applicazione localistica del punto stesso. Un sintomo importante per il quale si utilizza questo acopunto è l'incontinenza fecale e urinaria associata. Bene, con questo siamo alla fine del video di oggi, lasciate una domanda o un commento, sarà mia cura rispondere a tutti. Spero di vedervi presto ancora, arrivederci!